Natale è la festa di un Dio che ci viene a trovare facendosi bambino. Un bambino che nasce in una mangiatoia e che viene riconosciuto dai pastori e annunciato dagli angeli in una notte in cui il mondo non sapeva che il Salvatore era sceso per visitarlo. Dio ci dice con ciò che i bambini sono importantissimi. Ad ognuno di loro è affidato un progetto, una visione di Dio ed è questa visione che richiama la vita. Noi qui a Fonte di Ismaele accogliamo i bambini più vulnerabili della città, quelli che incontriamo nelle periferie nascoste di Roma città metropolitana. Sono bambini molto fragili che appartengono nella maggior parte dei casi a famiglie colpite dalla povertà e che questa pandemia ha reso ancora più poveri. I bambini che noi seguiamo qui sono bambini con problemi di disabilità, soprattutto quella del linguaggio e quella motoria. Grazie ai nostri medici, ai riabilitatori e agli educatori, i bambini stanno recuperando. E questo ci dà tanta speranza, perché restituire un bambino alla salute, alla sua integrità, significa costruire sicuramente un mondo migliore. Il centro è aperto tutti i giorni e i bambini possono fare terapie riabilitative, vengono a fare i compiti, le loro mamme vengono a fare il corso di italiano. I nostri operatori fanno un corso di lingua araba con una di queste mamme e poi hanno degli spazi di gioco, degli spazi di condivisione per apprezzare la bellezza del crescere insieme. Il nostro centro viene sostenuto dalla provvidenza. Non abbiamo altre fonti, diciamo così, per sostenere le cure che noi garantiamo, gratuite a tutti i bambini che si trovano in questo centro. L'Istituto di Medicina Solidale nel corso soprattutto dell'ultimo anno ha messo a disposizione del Fonte di Ismaele tutti i suoi professionisti medici che hanno assistito i bambini nel corso dell'anno. Sono stati impegni finanziari importanti perché le disabilità e i problemi che sono stati riscontrati erano tali da richiedere interventi piuttosto impegnativi e da parte di professionisti seri. Tutta questa nostra iniziativa la facciamo in virtù delle donazioni che riceviamo, che ovviamente non sono mai poche. Quindi faccio anche un appello affinché si possa incrementare queste entrate che sono sicuramente ben destinate in favore delle categorie più bisognose e in particolare al modo dei bambini. Un impegno dei bambini è quello di creare un giardino verticale che già abbiamo apposto su alcuni davanzali delle nostre finestre e nel rifacimento di alcune aiuole che erano state un po' vandalizzate sulla strada. E diciamo per aiutarci anche a sostenere le cure che gli offriamo, hanno preparato questi gadget, sono dei bulbi di giacinto avvolti invece che nella carta di regalo in una carta disegnata dai bambini e noi li offriamo diciamo così alle persone che con questi bulbi vogliono realizzare un regalo solidale e che ci permettono quindi di curare qualche bambino in più. Un'altra delle nostre azioni è quella di distribuire un'integrazione di pacchi alimentari per le famiglie che si trovano in maggior disagio, ma realizziamo questo in un clima di festa, accogliendoli con regali, con dei dolci che condividiamo insieme, con dei giochi per i bambini di modo che questa consegna sia una condivisione e non una elargizione di tipo assistenzialista. Tutti mettiamo quel poco che abbiamo e che condiviso diventa tanto. È quello che ci ha insegnato Gesù quando ha moltiplicato il pane.